Honey, this is an occasion, we must proceed with quiet dignity, but what are we celebrating? The end of a drought, a year long drought. Roberto Baggio vs Buffon, Roberto Baggio, laganova, prebace kao budalo ovdje. Roberto Baggio, my story. 어제 hit his midfaza. Gianluca vs Buffon, had to hit all the good news. Then I caught the카� aqui and tried it to be the chance in shock there. spettacolo l'invole vanguare in passaggio la porta vanguare la porta l'invole vanguare ok Signori, l'esmerza di l'esmerza, l'esmerza di l'esmerza. Poggiare da centra. Italiano rappresentazione. Ehi, guardate. Si, guardate. Si, guardate. Pagla da un' reagente da un' preci né, che sono in una ruptura di l'esmerza. E' un' costruzione. E' un' ora che la reazione di un' preci né. Pagla da stai. insieme alla spottene prima che tra le parole il caso di oggi è stato liberato di giocci non è stato un problema il modo di giocci non è stato un modo di giocci il modo di giocci fantastico si no si no non ho mai riuscito non ho mai riuscito ma occi da ogosta distanci e reagire è un pollo di distanza, il giusto di giusto, è un giusto, è un giusto, non è un giusto, non è un giusto, non è un giusto. La scuola è Roberta Bađa, centra, e poi il progetto di Roberta Bađa. La scuola è la scuola, la scuola è la scuola. Quando si vratti, la scuola è la scuola, la scuola è la scuola. Il giusto, è la scuola, la scuola è la scuola è la scuola. Per l'è quando si vro, la scuola, la scuola è lagata. La scuola è la scuola.